Oh mio, no ma ce n'è uno qui, ce n'è uno Ma non ci credo Ma qui dentro c'è spugli Ma questi quando sono arrivati? Eh un altro, un altro, un altro Eh lo so, l'ho visti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati In compagnia della mia ragazza Salve E oggi siamo col terzo video giornaliero Terzo video giornaliero Stamattina alle 7 è uscita una GG News Per andare a parlare cose molto interessanti a mio avviso Renegade Rider, Pinnacoli Ributtata lì in mezzo da Epic Ma che probabilmente non arriverà mai Poi è ora di pranzo È arrivato un video dove abbiamo parlato di Foschi Fumaioli distrutta Dei nuovi cubi Del movimento del cubo blu Insomma, altro episodio a mio avviso abbastanza interessante Dove vi ho spiegato un po' quello che è successo con la patch di oggi Perché oggi, sì, oggi è uscito un aggiornamento Una nuova patch, la 18.10 E adesso invece andremo a provare le nuove cura bomba Che sembrano davvero devastanti E il Viewstel, perché sì, è uno dog Quell'NPC è lo dog È ormai diventato il nuovo NPC più forte di sempre Di tutta Fortnite Cioè, raga, non avete idea della roba che vi vende quell'NPC Ma adesso ne andremo a parlare Ovviamente, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato Nel negozio oggetti di Fortnite per supportarmi Mi raccomando, ragazzuoli, è davvero fondamentale Quindi controllate sempre che in basso a destra ci sia scritto Supporta un creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato Perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie a vero di cuore a chi lo farà Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Mi raccomando, ragazzuoli Controvi ad essere iscritti se non lo siete Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Adesso vediamo un po' cosa riusciamo a combinare Ok, ragazzi L'NPC in questione Il diustelone Sta tipo qua Ok? Ed è devastante, ragazzi Cioè, ormai la roba che vende è incredibile Perché gli hanno messo le nuove cura bomba Quindi le nuove cura bomba spicy le vende lui sostanzialmente E si possono trovare nel lama, da quanto ho capito E va bene Ma non gli hanno tolto lo sparaslarp Lui vendeva anche lo sparaslarp E lo vende ancora Quindi lui adesso si ritrova a vendere sia le cura bomba spicy Che adesso andiamo ovviamente a provare Che è lo sparaslarp Ed è devastante come cosa, ragazzi Cioè, non è da sottovalutare Assolutamente Praticamente vende tutte cure Ed è anche per questo che abbiamo invitato Serena quest'oggi Per curare un team intero sostanzialmente Cioè, le cura bomba, lo sparaslarp, eccetera Sono tutte cure che curano a zona Quindi tutta la gente vicina la cura sostanzialmente E allora, ciao Io direi di prendermi tutte le scorte, ragazzi Mamma mia Tu pure hai preso delle scorte? Una Ok, allora aspetta, aspetta Intanto facciamoci questi Nel dubbio Non li lasciamo a nessuno E Dopodiché vai Prova a spararne una Vediamo un po' che succede Allora, da 40 Cioè, da 20, scusate A tutti e due E ti velocizza Cioè, raga, è devastante Allora, aspettate Sbroccata Sì, no, è devastante, ragazzi Allora, leggiamo un attimino le statistiche Allora Si scaglia per innaffiare tutti i giocatori vicini Applica immediatamente salute Scudi E potenziamento della velocità nell'area coperta Devastante, ragazzi Cioè, veramente, veramente devastante Ah, e non vi ho fatto vedere, raga Che vende ancora pure lo sparaslarp Magari adesso ci risparmiamo Anche il comprare lo sparaslarp Però, raga, eccolo qui Cioè, lui potenzialmente vende anche lo sparaslarp Allora, vediamo un po' Apri il registratore di cassa Va bene Ti stanno già sparando, amore? Sì Stanno sparando dal benzinaio Dal benzinaio stanno sparando E non c'ho armi E io c'ho solo un pump Quindi direi che ci possiamo anche tranquillamente ritirare Ritiriamo Fuga, fuga, fuga Però dove andiamo a lutare a sto punto se sono andati pure al benzinaio? Perché lì davanti c'è la slon con gli NPC Cioè, con le varie guardie Eh, vabbè Ah, lì c'è una cesta Eh, ok, vai Intanto vai a lutare anche tu Io intanto provo a vedere se qui alla zona di schianto c'è qualcosa Allora Io qui continuo un attimino a lutare Ha una bella mitraglietta Non la butto via, ragazzi E Mi interessa un bump a blu? Sì Magari Cioè, quando ho saputo che il L'Hoddog, insomma Vendeva queste cura bomba Spicy Cura bomba al chili Chiamate in italiano Pensavo gli avessero tolto Il Lo sparaslarp Perché, di fatto, ragazzi Lui già vendeva lo sparaslarp Dico, poi Gli avranno Tolto E invece no, ragazzi Invece no Sta ancora lì Vende tutto Secondo me è una roba devastante, raga Allora, nel bene o nel male Qualcosina l'abbiamo lutata Uh, qui davanti hanno anche faietato Però Penso sia tutta roba vecchia Però c'è del lutto a terra Potremmo andare a vedere Considerando che comunque non siamo messi benissimo Potremmo sfruttare Sfruttare il suo lutto a terra Perché vedo anche delle cose blu Ma è possibile che abbia lasciato tutta sta roba? Ah, no Forse c'è stato un viceverso qui Potrebbe anche esserci stato un viceverso direttamente, ragazzi Sì Sì, resta le armi a terra Sì, ragazzi Si sono fatti un viceverso Molto banalmente Ok Però è tutta roba Tutte strutture Penso Vecchiotte Anche qui a potere Non vedo neanche più nessuno Però siamo in piena safe, ragazzi Quindi questo ci fa stare un po' più tranquilli Uh, sparano qui a potere, amore Sparano qui a potere Io vado un attimino a vedere com'è la situazione Uh, che era qui? Che era qui? Che era qui? Ah, c'è uno scildone Se te lo puoi portare qui in mezzo al grano Allora Stanno lì dove c'è quel camioncino Sì, sono lì, ragazzi Sono in due, penso Non so se mi abbiano visto, eh Provo a fargli il giro Vorrei provare a fargli il giro, ragazzi Non sarebbe male ucciderli Più che altro perché vorrei migliorare il pump Se hanno qualche arma migliore Rispetto a quelle che abbiamo noi Ce l'ho bianco il pump Eh, sì, appunto, appunto Allora, sono lì dentro nel grano Vedo che si sta muovendo il grano lì Quindi penso siano lì dentro E non so se ci abbiano visto O no, perché stanno andando completamente da tutt'altra parte Sono lì Ma dove stanno andando? Stanno, ah no, stanno sparando ad un animale Se qualcuno rimane Ma quello, aspetta, è rimasto Mannaggia, era rimasto fermo Se qualcuno rimane un po' più dietro Lo possiamo laserare Eh, però stanno sempre vicini Ah, proviamo a laserare questo qui Che si sta facendo Ok, 28, 28 Ho rotto lo shield Ho rotto lo shield a quello lì Perfetto Ah, facciamo una cosa Amore, vieni Andiamo belli cattivi Va bene, va bene, va bene Poi dopo me la dai Non ti preoccupare Andiamo, belli cattivi, raga Eh, vabbè Mi ha preso pieno questo coso 134 Bravissima Mmm, sono belli cattivi, eh Andiamo su due Uno l'ho hittato tantissimo Quello sotto Ma dove sono? Ah Ma se non li trovo più Uno è atterrato Ma solo uno è uscito È da me, da me Eh, ma dove? Eh, lo sento sopra di me Ah, è sopra Ma quindi ha ripreso l'alte No, eccolo Eccolo, eccolo, eccolo Ma non capivo infatti dove fosse Eh, altri passi, amore Altri? Sì Sicura che non siano di questo? Sicura Sono doppi, amore Uno l'ho atterrato Ah, sì, vero No, ho finito i maz No, ho finito i maz Oh mio No, ma ce n'è uno qui Ce n'è uno Ma non ci credo Ma qui dentro c'è spugli Ma questi quando sono arrivati? Eh, un altro, un altro, un altro Eh, lo so, l'ho visti Altri due Ma quando sono arrivati tutti questi? È qua da solo, amore L'ho lisciato malamente Sì, ho ancora che provo a buildare Che l'ho finito in quarto d'ora fa i materiali Regà, ma che? Eh, ancora Però, dimmi che c'era un po' di Sì, un po' di build Ci stava Allora, aspetta, amore Prima che arrivano Se rianimi i metri Lo lascio io un sacco di materiale Aspetta, aspetta, aspetta Oh mio Dio Ma che c... Ma questi quando sono arrivati a nascondersi lì, ragazzi? Ma secondo me erano già camperati E non ce ne siamo accati Probabile, sì, è vero, probabile Oh mio Dio Ho lasciato tutto il legno intanto Ok, allora, aspetta Mi faccio un attimino uno shieldino Mamma mia, regà Allora, c'ho un medikit per te Ok, sì, mi faccio lo shieldone intanto Oh no, mi se ci sta pushando Allora, spero non ci pushi in realtà Eh, aspetta, amore Sì, sì Non si prende il baggato Te lo lascio io qui Il medikit Ma io non capisco se sono due o è uno da solo È qua, vedi Ok, Tato 23 E provo a dargli fastidio tu fatti il medikit Ma come l'ho lisciato Ok, gli ho rotto lo shield Madonna, che scarso, regà L'ho lisciato malamente proprio Che scarsone Ma non si riesce a far cadere tutto, eh No Eh, vabbè, l'ho rilisciato Ma allora dillo, G, che non ce sa IPA oggi Niente, oggi col pump li liscio tutti Va bene Non è che c'è un altro shieldone, eh Va bene Va bene, regà Va bene È stato uno dei fight probabilmente più strani Che io abbia mai fatto in tutta la mia vita Orbe Molto tranquillamente Sì È stato uno dei fight più strani Di tutta la mia vita, assolutamente E però Ne siamo usciti Vincitori E anche Con un bel loot Possiamo dirlo Tranquillamente Con un bel loot Allora, regà Confermato Sono veramente sbroccate Ste cura bomba Perché ti velocizzano E comunque, regà Il fatto di avere la velocità Non è affatto male Direi di farci a questo punto Anche il forziere cosmico, amore Che dici? C'è uno shieldone Eh, non lo posso portare Non lo posso portare Però Lascio la mitraglietta Nel dubbio mi prude tantissimo il naso Non ho capito perché Eh, però attento, eh Perché c'erano i corvi, quindi Sì, sì Allora vai Teniamo d'occhio la situazione Però nel frattempo Proviamocela a fare Da dietro, da dietro Ho sentito spari Sì Dai che è fatto praticamente Dai, dacci qualcosa di bueno Eh, vabbè Dai Lo spasso Un altro shield Stanno vedendo qua Ok Sì Anche se non li vedo No, più che altro i mazzi Io mi devo fare i mazzi È già finito tutti quelli che ti ho votato Praticamente no Finiti no C'erano ancora 700 di legno ma Eh, anche dietro Mi ha segnato a spari Sì, sì, comunque Stanno sparando Ce l'abbiamo tutti intorno Ma guarda se mi entra Ok, quello là Gli ho rotto lo shield E quello fuori safe Ma quello con la macchina Temevo mi investisse Non mi entrano le hit Ok, è bianchissimo È bianchissimo Ok, terra No, la macchina Attenzione, deve esplodere Eh, quello dentro la safe L'avevo messo Bianco Eccoli gli altri due In safe Eh, però aspetta Copriti Ah, fuori Ah, ok Ok, bravissima Però questo qui Ecco, infatti Lo sta apprendendo a salvare Eccolo qua Mi ha segnati i passi Cecchino di fuoco Mio Ma perché io non mi son curato Aspettate un attimo Eh, ok Ci velocizziamo, regà Ma dov'è? Era qua Ok, fatti 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 Let's go Eh, lo esco un attino A lootarlo Ok E quelli lì Pure che hai ucciso tu L'hai uccisi fuori, vè? Sì No, uno sta messo dentro Eh, quello lì l'ho ruotato E mi sono riuscito a fregare il cecchino Brava E vabbè, lì c'è giusto uno shieldone Il cecchino Quello infuocato Vabbè, si può anche lasciar stare Oh mio Dio, regà Che partita strana Che partita strana È stata tranquillissima Per più di metà Proprio tranquillissima Come se non ci fosse nessuno in lobby E poi boom Di punto in bianco 28.000 team Ho segnato gente per sé Ah, sì, sì No, ti stanno pushando Ti stanno pushando, amore Uno l'ho dittato Attenta Ok, arrivo Tanto c'ho ancora la velocità La Charlotte l'ho dittata Gli ho rotto lo shield A la Charlotte dietro A quello pure praticamente L'ho craccato di brutto Sono messi malissimo Eh, io l'ho dato fuoco Hai fatto bene Anche perché sono fuori safe Vai, vai, vai Continua Bravissima Eh, quello l'ho Me l'ha data a me Ma grazie a te Se l'abbiamo atterrato Ok, quello ci ha dato la kill Quello sta andando in safe Chissà perché Forse perché il compagno Il compagno ha i medikit Eh, ok Eh, ma tanto questa che toglie Due quando si ferma cinque Ah, provo a prendere Un attino l'altezza qui Dove è andato? Eccolo lì Guardate se mi entra una hit Ma una, eh Un dubbio Con tutto quello che fa Un dubbio ucciso questo Tra l'altro stiamo attenti Perché siamo ancora in sei E qualcuno ha fatto il reboot Stanno fightando qui a potere Dobbiamo stare attenti, amore Dobbiamo stare attenti Eh, ma a me mi mette ansia questo qui Ah, è morto È morto La tempesta era inghiottito Non ci ha dato la kill Peccato, raga Non ci ha dato la kill C'è gente all'air drop Eh, sì Ma no, c'è Ma dopo anche a quello Qui a potere c'è gente un po' ovunque Qui a potere c'è gente un po' ovunque purtroppo Eh, giriamo verso destra Uh, corvo, corvo, viola Ah, vabbè Eh, niente Però a me mi mangio sto pezzo di carne Sono tre Se te lo vuoi fare anche tu Allora, c'è gente lì pure C'è gente ovunque Cioè, siamo in dieci E siamo tutti team da due Perché siamo Due, 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 due Ok Mamma mia, regà Che ansia E attento che le ho dato il fuoco apposta Perché ho visto che stavano le grani Ok, sono scappati Stanno andando verso sud-est Anzi, verso est Più che altro Ah, ce li hai materiali? Sì, materiali sto messo abbastanza bene Ah, quello 24-24 E questo sta qua da solo Potevo hittare più questo Ma non l'avevo ancora visto Stanno proprio qui davanti a me C'ho Pandora Tra i piedi Che mi si sta strusciando sui polpacci Pandora? Mi ha fatto prendere un infarto Allora Il carline bianco Ecco perché stanno a scappare Eh, sì L'avevo pure preso prima Allora io inizio a buildare il mattone Se tu poi volevi dar fuoco Mi disegna proprio qui davanti Sì, c'hai lì sotto la cristallo Ok Ho dato fuoco perché Stavo continuando a buildare il legno No, l'ho preso No, meno male non sono entrato in realtà Ok No, non ci credo Quanto mi ha tolto Eh, amore, help Eh, l'ho fatto un bel po' Eh, ma Dai, ma quanto mi ha tolto il carlino ragazzi Ma siamo seri Ma siamo seri raga È qua da me la cristallo Si sta curando Qua Eh, l'ho vista Sta qua dentro 43 35 Eh, dai C'ha lo spasso oro? Sì, questa sì No, il cane non lo so Però Io ho preso Eh, sì C'ha lo spasso oro Eh, non ci arrivo Rip, nemmeno io Troppo poca vita No, no, andiamo Io pure Ho finito le cure di vita Praticamente Io Io non ne ho pure Dai ragazzi Ma non è possibile Cioè, ma perché io col pump Mi devo beccare sempre Tutti sti danni E poi io faccio dei danni ridicoli Questi stanno Mildandosi in legno Vediamo sì Qui dentro C'è gente Non ci sono cure Madonna Siamo messi malissimo In realtà Eh, lì ci stanno i medichi Dove ci sono quelli Eh Occhio Uh, ci hanno i poteri Sì, ma mi ha lasciato malissimo Sì, l'ho visto L'ho visto Vediamo se qua dentro c'è qualcosa Mamma mia, raga Che partita Eh, questo è un peccato Però perderla così Stanno passando Vedi, stanno cambiando Eh, ci ha riprovato E mi ha rilisciato Eh, sì Ma perché sta troppo Oddio, uno gli ho rotto lo shield Io ho rotto lo shield Io ho rotto la macchina Non ho capito bene a chi Ma a uno gli ho rotto lo shield Però il problema è che Dobbiamo stare attenti Anche all'altro team, amore Ah, che partitaccia Grazie, amore Hm? No, li uso fuori con le scale Volano? Sì E mi sa che stanno volando Verso di noi No, no Verso la safe Ma che bella Mamma mia, ragazzi Che bella mira Una hit Io che pensavo Che ci volessero pushare No, no Perché stiamo fuori safe Eh, sì Perché quegli altri hanno sparato Se stanno tutti qui? Mamma mia, regà Hai colpito il cecchino? Eh, sì Tieni, quanti ne vuoi No, attenta Ci sta anche uno lì Eh, no, 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 no Andiamo in safe Andiamo in safe Io gli ho solo dato fuoco, amore mio Sì, sì Però E noi siamo la regina del cecchino Col fuoco Quelli stanno là E ovviamente stavamo in mezzo a noi, ragazzi Ma Non ci posso credere Ma che cretino che sono Perché non mi son coperto? Perché ogni tanto faccio queste pollate? Eh, io ho gli scildini Eh, io pure gli scildini ce l'ho Però mi ha tolto per un po' di vita Che non dovevo perdere Che partita, ragazzi Qua sarà tosta, eh Meno male che la safe Almeno è più qui Meno male Aia, Pandora Infarto E niente, ragazzi Pure Pandora ce sta a pushare in sta partita Pure Pandora ce sta a pushare in sta partita E dai Ma come mi è preso dietro la roccia? Eh, no, amore Attenta a non le prendere ste hit Perché non abbiamo roba per curarci Rimani sempre coperta C'è un altro quadri Eh, rip Eh, rip, rotto Dove rimane coperta, amore È qua Al Eh, niente Eh, vabbè No, ce l'hanno tutti con me giustamente Ah Uno mi continua a grattare nel frattempo No, come Come non è entrata sta hit? No, regà, dai Ma veramente così schifo faccio? Non so se se li si apresi lui Ma io avevo i materiali Eh, quello mi volevo venire a prendere Però si è allutato lui Niente, spero di fargli più danno Oltre i 90 Ma no Non si sono presi il pesce scudo? O l'hanno lasciato lui? No, l'hanno lasciato loro Non ce l'avevo io Oh mio Dio Ma che bontà Mi sa che si è preso il cecchino infuocato Eh, ma non c'è fa niente Perché non mi è sembrato di averlo visto Oddio No, c'hanno i poteri Eh, c'hanno i poteri di Venom E di Carnage, tanto Ma il problema è che io li devo far fuori Perché non ho così tanta vita Per poter resistere Ok, l'ha preso? Mi sa che l'ha preso? No Vabbè, quelli Io ho risentito pesci Quanti pesci hanno questi? Eh Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia C'era No Cioè questi non hanno Non hanno preso nessuno Per tutta la partita Con i poteri di Venom E il Carnage Questo qui Ha lisciato tutti dall'inizio alla fine Ha lisciato tutti Tutti dall'inizio alla fine A me mi ha preso in mezzo A tutte quelle build Che non ero manco scoperto Ragazzi Io non ho veramente parole C'è una sfiga Una sfiga ragazzi In sta partita Che non ho veramente parole Comunque Io non vorrei far notare Non vorrei far notare Ma nei video di oggi Ne sono usciti tre Questo è il terzo È il secondo di fila Dove muoio per colpa Di questi poteri maledetti Dove Io uccido O comunque pusho I terzi E l'ultimo Mi prende Con sto potere maledetto Tra l'altro Sono morto di caduta Quindi è stato anche bellissimo E niente Non so come commentare Questa morte ragazzi Non so sinceramente Come commentare Questa morte Perché è incommentabile È veramente incommentabile Cioè dopo la pushata A quelli lì Mi meritavo la vittoria reale Ce la meritavamo Comunque raga Fatemi sapere sotto nei commenti Cosa ne pensate Di questa nuova patch Vi ricordo ovviamente Il codice creatore Come al solito GGYT Tutto grande Tutto attaccato Nel negozio oggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzuoli È fondamentale Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Per noi tutti ci troviamo domani Con il prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao ciao